ciao amiche benvenute nel mio video tutorial oggi faremo un portafoglio in zucchero questo è quello terminato andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci occorre eccoci avremo bisogno del tessuto in zucchero di una cerniera della plastica per le copertine forbici un metro delle mollette una penna ed effetto neoprene il tessuto in zucchero deve essere 38,5 x 41 cm lo pieghiamo a metà nel verso dei 41 cm un lato lo metteremo da parte l'altro toglieremo cinque centimetri avremo così un taglio da 20 per il verso dei 33 cm facciamo tre pieghe la prima piega la faremo a 51 cm la seconda piega a 15 centimetri e mezzo la terza a 25 centimetri e mezzo quando facciamo la piega controlliamo che la misura sia esatta grazie grazie anche con un ferro da stiro mettiamolo da parte e prendiamo la striscia da 5 centimetri che poco fa abbiamo tagliato tagliamola a metà prendiamo un pezzetto che sarà 10 per 5 centimetri e con un oggetto arrotondato arrotondiamo gli spigoli tagliamo l'eccesso misuriamo 5 centimetri e pieghiamo in modo tale che la parte finale tocca il segno che abbiamo fatto questa piega ci occorrerà per avere un segno preciso di come cucire ora prendiamo il portafoglio mettiamo il diritto verso di noi posizioneremo la linguetta nella piega più grande prima però dobbiamo trovare il centro dal centro ci dobbiamo abbassare di un centimetro e mezzo piego così si può vedere meglio facciamo un puntino ora prendiamo la linguetta e la dividiamo a metà per la lunghezza prendiamo l'altro rettangolo da 5 centimetri per 10 cm lo dividiamo lo dividiamo a metà per la lunghezza mettendo rovescio contro rovescio e cuciamo tutto intorno prendiamo il portafoglio e il lato opposto dove abbiamo messo la linguetta lo posizioneremo troviamo prima il centro e dal centro e dal centro andando verso l'interno calcoliamo un centimetro e la posizioniamo e la posizioniamo sul puntino che abbiamo appena fatto cuciamo dei piccoli quadratini da un centimetro per uno entrambi gli estremi cuciamo anche la linguetta facciamo una prova per vedere come sta venendo ora prendiamo il rettangolo che inizialmente abbiamo messo da parte facciamo un quadrato di 20 cm l'altezza è 20,5 cm ora mettendo rovescio contro rovescio pieghiamolo a metà all'interno faremo un disegno dalla piega andando verso l'esterno calcoliamo un centimetro e mezzo dal puntino facciamo una linea di 12 cm lasceremo quindi 4 cm a un lato 4 cm dall'altro ora dobbiamo fare una linea parallela a 1 cm di distanza quindi calcoliamo 1 cm tiriamo la linea e facciamo il nostro rettangolo dopodichè lo taglieremo prendiamo la cerniera giriamo la tasca mettendo il rovescio verso di noi anche la cerniera metteremo con il rovescio verso di noi fermiamo con gli spilli e cuociamo tagliamo gli eccessi della cerniera tagliamo gli eccessi della cerniera pieghiamo la tasca a metà e cuociamo tutto intorno e cuociamo tutto intorno pieghiamo la tasca a metà 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 Ora prendiamo l'ultimo pezzo rimasto. L'altezza è 20,5. Tagliamo un pezzo da 8 cm. Questo ci servirà per mettere le doppie carte. L'ultimo pezzetto rimasto lo dividiamo a metà per la lunghezza e lo tagliamo. Avremo così due quadrati da 10 cm ciascuno. Da un quadrato tagliamo 5 cm. Dall'altro tagliamo 2,5 cm. Tagliamo anche i 5 mm. In ogni caso, nella descrizione vi lascio il link con il cartamodello. Prendiamo il rettangolo da 10 cm per 7 cm. Questo ci servirà per la tessera. Calcoliamo un centimetro e mezzo per ogni lato. Facciamo così un rettangolo interno, che poi taglieremo. Grazie. 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 Una volta tagliato, prendiamo il rettangolo di plastica che misura 10 x 7 cm. Lo mettiamo sul vetro. Lo fermiamo e cuociamo tutto intorno. Prendiamo il portafoglio, il lato dove c'è la linguetta. Lo fisseremo in basso a destra. Prendiamo il rettangolo da 5 cm e quello da 2,5 cm. Io li ho messi diritto contro il rovescio, ma bisogna mettere diritto contro diritto e cucire. Posizioniamo il rettangolo per la tessera. E cuciamo in alto e a sinistra. Ora prendiamo l'altro rettangolo che avevamo cucito. Apriamo la piega e lo mettiamo a fianco al rettangolo della tessera. Ora prendiamo l'altro rettangolo che avevamo cucito. Prendiamo l'altro rettangolo da 5 cm e li facciamo combaciare. Ora cuciamo in alto e a destra. Ora prendiamo il rettangolo quello più lungo, da 8 cm. Dobbiamo metterlo dove c'è la piega. Quindi prendiamo il rettangolo e la piega e li blocchiamo insieme. Andiamo ora a segnarci la metà. Faremo una linea che va dall'inizio fino alla piega. Cuciamo sopra la linea fatta e in basso tutta la piega. Abbiamo formato così due tasche. Prendiamo la nostra tasca e vediamo dove vogliamo posizionarla. prendiamo ora il mio prene che misura 20x20 e lo posizioniamo al centro. Facciamo delle prove per vedere se si chiude. Prendiamo la tasca e mettiamola a filo con il neoprene, proprio nella piega. fermiamo con delle mollette. e cuciamo fino alla tasca. Facciamo lo stesso per l'altro lato. Fermiamo con le mollette e cuciamo. Il nostro portafoglio è pronto. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Vi aspetto, alla prossima. Ciao!